In teoria, ripeto un concetto, nel senso che secondo me noi abbiamo come sistema di gioco di partenza statico un 4-3-3, per capirci, dopodiché ha una sua, diciamo così, flessibilità in entrambe le fasi, cioè nel senso che noi parliamo di dinamica, nel senso che a volte il 4-3-3 prende le forme di un 3-4-3, 3-4-2-1, eccetera. Stessa cosa per quanto riguarda il non possesso, oggi l'intenzione nostra, incastrandoci con un 3-4-1-2, era quella di restare ancora con un 4-3-3, nel senso che volevamo 3 contro 3 davanti, volevamo Medel su loro tre quartisti e i nostri due interni contro i loro due mediani, terzini forti con i loro esterni, quindi diciamo la logica è quella che ci porta a prendere delle forme.